Questo è un piccolo segreto che do a quei dentisti che hanno la paura di non riuscire a formare una squadra. Formare una squadra è semplice, devi farti vedere. Se sei bravo, vali e hai dei buoni ideali, raccontali, mettili in pubblico, perché le persone che la pensano come te inizieranno ad avvicinarsi a te. È così che si crea la squadra dei pari, delle persone simili a te. Non tirarti mai indietro di fronte alle sfide. Ci siamo indebitati, abbiamo conosciuto Natali, Capodanni, Pasque, Domeniche. Sono stati anni veramente intensi quelli. Abbiamo iniziato proprio dal basso, con uno o due pazienti, facendo i primi siti web, facendo le riabilitazioni iniziali, finché a un certo punto abbiamo iniziato a portare i migliori nella nostra equipe e attrarre i migliori, ma senza le fotografie e i video su internet i migliori non ci avrebbero mai trovato.